Lo Stato c'è. A 15 giorni dalla retata di Via Lamia, nuovo blitz delle forze dell'ordine. Questa mattina, dalle prime ore della mattinata, carabinieri, polizia locale, tecnici comunali e vigili del fuoco hanno circondato il centro storico di Pagani in quello che viene considerato dagli investigatori il quartier generale della criminalità organizzata locale e delle loro famiglie. Decine e decine i controlli e anche anti-abusivismo effettuati. I militari dell'arma hanno fatto irruzione nelle abitazioni di Via Lamia, Via Mendola, Piazza Martiri d'Ungheria. Dalle perquisizioni sarebbero emersi particolari interessanti che confermerebbero i sospetti degli inquirenti ma sull'operazione coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Elena Guarino della DDA salernitana vigile il più stretto riservo. Tecnici dell'Enel e dell'Ufficio Tecnico Comunale avrebbero verificato anche irregolarità e abusi di natura penale ed amministrativa in una zona che fino a ieri poteva dirsi terra di nessuno. Stanno ancora in corso, noi non sappiamo neanche nulla, è solo un'ausilio che ci hanno visto perché è un'attività sorpresa che hanno fatto loro. I carabinieri. Angoli del centro storico rimessi a nuovo ristrutturazioni con materiali pregiati continua dunque l'attività di indagine degli uomini della DIA e dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il 4 dicembre scorso, giorno di Santa Barbara, oltre 150 uomini misero a segno un blitz senza precedenti. 25 le ordinanze di custodia cautelare in carcere notificate agli appartenenti del cosiddetto clan Fezza De Vivo. Gravi gli indizi di colpevolezza nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Indinimeo. si fa riferimento ai reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, porto e detenzione illegale di armi, illecita concorrenza con violenze o minacce aggravati dal metodo e o finalità mafiose. Contestualmente la Guardia di Finanza ha operato il sequestro preventivo di beni, quote societari e conti correnti e rapporti finanziari nella disponibilità diretta ed indiretta degli indagati sul territorio nazionale ma anche in Spagna. E non finisce qui.